Stanno tutti bene i tre membri dell'equipaggio dell'imbarcazione Mimmo che la scorsa notte intorno alle 2.30 è finita contro la scogliera del pennello alla foce dell'Albula. E questa è sicuramente la cosa più importante. Il palangaro, lungo 17 metri di stanza a Catania, era diretto al porto di San Benedetto del Tronto per scaricare il pescato. Erano quasi arrivati quando per causa in corso di accertamento da parte della Capitaneria ha impattato contro i frangiflutti. Le condizioni del mare erano ottimali, non è chiaro quindi se si sia trattato di un errore umano. Fatto sta che si è aperta una falla e lo scafo ha iniziato ad imbarcare acqua per poi arenarsi e adagiarsi sul lato. Dopo l'SOS si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi coordinati dal comandante della Capitaneria Marco Mancini. Sul posto sono arrivati un gommone e una motovedetta della Guardia Costiera, oltre a due squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri arrivati dal distaccamento di San Benedetto e dal comando provinciale di Ascoli Piceno con le idrovore hanno prosciugato più acqua possibile per permettere poi ai sommozzatori di chiudere alla meglio la falla in modo da riportare il peschereccio in galleggiamento. Le operazioni di recupero piuttosto complesse sono proseguite per tutta la mattinata e si attende che la marea si alzi un po' per riuscire a traghettare l'imbarcazione al vicino scalo di Alaggio. L'altra buona notizia è che non ci sono state perdite di idrocarburi dopo l'impatto contro gli scogli. Tanti curiosi che si sono affacciati sulla spiaggia e nel vicino giardino sul mare. Un automobilista distratto dalle operazioni di recupero dopo aver tamponato l'auto che lo precedeva in via delle Tamerici è finita lungo la pista ciclabile, fortunatamente senza conseguenze per i passanti.